Le voti si sono vie È un laboratorio di canto e di musica popolare, quello in corso fino alla fine di agosto, al Centro Culturale Il Funaro. A promuoverlo il Centro Studi Ricerche Espressive di Pistoia, in collaborazione con Teatri di Pistoia, e Centro Studi Beatrice di Pian degli Ontani, nell'ambito di Giovani Sì Toscana Contemporanea, con il sostegno della Fondazione Caripit. Questo fa parte di un progetto più grande legato alla memoria, e quindi essendo legato alla memoria l'elemento musicale e l'elemento canto ci è sembrato che fosse fondamentale. Progetto che poi andrà avanti in autunno con una serie di manifestazioni, tra cui ci sarà anche una grossa performance dedicata a Marino Marini. Tra i maestri abbiamo la scuola del testaccio, che sta facendo il laboratorio in questo momento qui, poi il Geri, Maurizio Geri, Riondino, e poi una serie di personaggi che via via si sveleranno, come si dice. Perché è importante un laboratorio che ha al centro il canto e la musica popolare? Credo che sia importante per una questione identitaria, sicuramente non come senso nostalgico, ma come idea di fondamento, di base della nostra cultura, delle nostre radici. E quindi anche come ha un valore anche per essere abitato, ancora trasformato, come fortunatamente ancora avviene in Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.